signori registro questo video per dirvi grazie per dirvi grazie di cuore ma tantissimo grazie di cuore per i 600 iscritti verrei veramente ad abbracciarvi tutti e 600 certo sarebbe un po' un lavoro grandissimo ci impiegherei qualche mese se non qualche anno però comunque verrei ad abbracciarvi tutti quanti e 600 per darvi comunque questo abbraccio incredibile per ringraziarvi di esservi iscritti al mio canale signori ormai ve l'ho scritto nei post ormai si sa la data di ritorno mia sarà il primo agosto infatti anche se non è mercoledì il primo agosto uscirà un video dove praticamente vi spiegherò un po' perché è cambiato tutto quanto perché vedete il microfono così in questa posizione l'ho appena toccato ho fatto un gracchio della madorsca perché non sto più dicendo parolacce perché non sto più svapando nei video perché c'è un green screen alle mie spalle con una bellissima inquadratura di me stesso con alle mie spalle dei pennelli phone assorbenti rossi allora vi spiegherò tutto quanto il primo agosto però ci tengo un botto che questo video esploda perché ci tengo veramente un sacco a ringraziarvi per i 600 iscritti signori è un traguardo veramente che non pensavo di raggiungere mai praticamente sto registrando questo video così dal nulla per comunque dirvi grazie per dirvi solamente grazie grazie e grazie siamo a 602 in questo momento ci siamo arrivati ieri o l'altro ieri non mi ricordo signori però comunque ci siamo arrivati e questo è veramente un traguardo che non mi aspettavo mai non mi non mi guarda non me lo sarei mai aspettato un traguardo così grande signori siamo ormai 600 in questo canale e stiamo crescendo sempre di più la famiglia LMG si sta si sta evolvendo sempre di più sta crescendo sempre di più signori vabbè questa non è una live non è un video normale cioè è un video normale però non è né una live né un video lunghissimo quindi vi saluto a tutti quanti voglio solamente ringraziarvi di 600 iscritti e grazie continuerò a fare video e ripartiremo il primo agosto io vi saluto e ci vediamo nel prossimo video grazie per essere stati iscritti e a gente